Prima serata del ciclo dedicato ai designer olandesi nella sede dell'Ordine degli Architetti di Varese. Abbiamo con noi l'architetto Silvio Carta che insieme a Matteo Bettoni è il curatore di questa serie di serate. Architetto, per quale motivo avete deciso di dedicare un ciclo a questo tema? In realtà il discorso è di interesse comune da una parte Italia e dall'altra parte Olanda. Il problema è che l'Italia sta vivendo, ma questo non lo dico io, lo sappiamo, sta vivendo un momento di crisi strutturale, chiamiamola così, in cui stiamo cercando di capire qual è la direzione da prendere nel nostro futuro. Dopo gli anni 60 e 70 l'Italia ha perso quel tipo di architetti che erano a nostro riferimento. Aldo Rossi, Portoghesi, Giorgio Grassi. Erano degli architetti che da una parte progettavano, quindi da una parte vi era una ricerca di una poetica, dall'altra segnavano qual era il cammino. Con la teoria, con i libri teorici, come ho detto Aldo Rossi fa architettura, però scrive anche l'architettura della città. Finiti, diciamo così, scomparsi. Se sommiamo poi anche la scomparsa di Tafuri, la scomparsa di Bruno Zevi, dobbiamo ammettere, dovremmo ammettere che gli architetti, in realtà gli architetti italiani degli ultimi vent'anni sono diversi, non sono né migliori né peggiori, sono semplicemente diversi da quelli che c'erano negli anni prima. Quindi l'Italia è in questa fase, diciamo così, in cui sta cercando di capire, di capirsi, e contemporaneamente però, mentre noi siamo impegnati a guardarci allo specchio, il mondo va veloce, va rapido. C'è l'esempio della... siamo stati investiti da una globalizzazione che ha modificato, non solo ha modificato qualsiasi modo di lavorare per quanto riguarda noi, ma sta ancora cambiando. E quindi basta pensare alla Cina, agli Emirati Arabi, insomma il mondo cambia molto velocemente e noi in qualche modo siamo, noi come altre realtà nazionali, però ci preoccupiamo di noi, siamo impegnati in altro. E allora, come dire, ciò che ci auspicchiamo, l'augurio che si fa è quello che l'Italia inizi a, come dire, a essere un po' meno italiana, se mi si consente il termine, e a guardare un po' più a una sorta di internazionalizzazione per cercare di capire veramente, come dire, dimentichiamoci per un secondo i nostri paradigmi, i nostri modelli e iniziamo a guardare altrove, iniziamo a guardare oltre i confini dell'Italia. Questo ciclo di conferenze nasce, come dire, si inquadra in questa prospettiva, cioè quella di iniziare a capire come altri architetti, in questo caso gli architetti olandesi, lavorano e soprattutto, con particolare attenzione, lavorano nella nostra nazione. Allora, è un po' come guardare loro per capire meglio noi stessi. Ospite della serata, l'architetto Stefano Milani, che avrà come intervento introduttivo il compito di inquadrare quello che sarà poi il percorso delle prossime serate. Architetto, in base alla sua esperienza professionale e accademica in Olanda, quali sono, a suo avviso, le problematiche che lei ha registrato nel corso del suo lavoro, della sua attività? Buonasera, a mio avviso la questione è abbastanza articolata, quindi va detto innanzitutto questo, è difficile da generalizzare. Se parliamo del contesto attuale, ritengo che in Olanda ci sia questa necessità, dopo la fama degli anni 90 e degli anni 2000, di riindicizzare i problemi. L'importante è che molto probabilmente questo avverrà senza nessuna drammatica conseguenza perché in realtà c'è sempre una decisione politica presa a priori nel contesto olandese che facilita di molto l'attività dell'architetto che riesce a trovare tutta la serie di fields of intervention per la sua attività e anche a proliferarne i contenuti critici, teorici. Invece è una condizione abbastanza diversa rispetto a quella italiana che sembra un po' stagnante da troppi anni forse. Però le condizioni sono anche abbastanza spiegabili, io ritengo anche a livello politico, questo è abbastanza chiaro per quanto mi riguarda. Diciamo che quindi in Italia l'attività dell'architetto è, diciamo così, se non ostacolata, rallentata da una burocratizzazione eccessiva? Una burocratizzazione eccessiva e anche viene chiesto all'architetto di occuparsi di problemi molto più grandi di lui, che non riesce più, anche a livello retorico, consumata, non riesce più ad affrontare. Quindi c'è la necessità credo di una rindicizzazione dei problemi e anche una rindicizzazione dei compiti, anche per trovare altri ambiti di intervento rispetto che non sia solo quello dell'edilizia. Ecco, un ruolo che va ridefinito, credo che sia necessario anche un po'. E se lei mi chiede quale consiglio, io questo veramente non lo so, questo veramente non lo so, perché la situazione è molto stratificata e proviene anche da ragioni molto profonde e molto complesse. Devo dire che per quanto mi riguarda il laurea in nolanza è un po' più semplice, ecco, questo che viene dalla mia esperienza, è abbastanza semplice a questo punto di vista. Architetto, invece per quanto concerne i colleghi olandesi, lei ha avuto modo di recepire qual è, diciamo, la loro sensazione quando vengono a lavorare nel nostro paese? Contrastante, sono sempre affascinati dall'Italia, perché comunque l'Italia è un paese molto più complesso, credo, dell'Olanda, quindi va detto questo. C'era molta curiosità, magari si chiedono ma come mai voi non riuscite a realizzare opere importanti che fino a 20-30 anni fa hanno segnato un po' l'education di tutti gli architetti a livello mondiale, hanno definito il dibattito a livello mondiale, invece adesso ci sente un po' una mancanza di temi e forse quei temi che non hanno più possibilità di essere incisivi alla società, quindi c'è necessario forse di una riflessione molto libera, credo, e poi una cosa che ritengo sia molto importante, ci deve essere del lavoro, cioè quello è importante, per me quello è fondamentale, se non si lavora non si riesce nemmeno ad affrontare i problemi, ma bisogna solamente, si parla solamente sopra, questo è un po', questo sviluppa una retorica che molte volte rimane vuota purtroppo, è un esercizio di stile, sì, siamo i migliori al mondo su quello comunque, anche questo è una qualità comunque. Ci vorrebbe anche della prassi, ci vorrebbe un po' più di possibilità di trovare ambiti diversi magari, di prassi, ambiti di prassi, dove si possa ancora sviluppare una professionalità come quella che si sviluppò, non so, direi Milano di Albini, non so, di Gardella, quel tipo di professionalità che è nostra, ecco, questo, se io vedo l'Italia, non so, l'architettura italiana, vedo quella di Albini, quella di Gardella, quel tipo di architettura lì, ecco. Comunque diciamo che in sintesi, anche in architettura, italians do it better, è corretto? Sicuramente, senza un bel dubbio, perché gli italiani sanno fare l'architettura, quello sicuramente.